Ciao cari amiche, eccoci ritrovate a una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi voglio presentarvi questi angioletti molto simpatici, molto belli, fatti in un modo semplicissimo e soprattutto con un'espressione facile da poter realizzare anche con i vostri bimbi. Sono stati realizzati in musgummi e polistirolo, però lo potete realizzare anche con del cartone, con del feltro. È veramente una tecnica semplice, semplice che comunque adesso che si avvicinano le feste di Natale ci possono aiutare a decorare la nostra casa. Allora, che cosa serve? Serve il piccolo cartamodello che potete scaricare, come sapete, dal portale creareinsieme.it dove potete rivedere anche tutte le puntate. Allora, prendiamo il musgummi con i brillantini color oro, giriamo e segniamo il cartamodello sul rovescio. Allora, non sprechiamo assolutamente materiale, quindi posizioniamo per bene il nostro cartamodello, lo teniamo fermo con la nostra mano, prendiamo la punta della forbice o un bulino, quello che voi avete, e andiamo a segnare il nostro cartamodello in questo modo qua. Logicamente, se fosse cartoncino lo potete disegnare con una matita, se fosse del feltro lo potete segnare con il classico gesso da sarta. Ecco qua, il musgummi lo segniamo con una punta, che può essere la punta della forbice, che può essere il bulino, che può essere la punta di uno stuzzicadente. A questo punto tagliamo il segno che abbiamo fatto, ecco qua, del nostro tronco di cono e andiamo a tagliare per bene il nostro modellino. Ecco qui, e tagliamo perfettamente. A questo punto abbiamo il corpo reale del nostro angioletto. Cosa facciamo adesso? Prendiamo il pezzettino che c'è avanzato, prendiamo la bichotte per tagliare la parte, questa parte qui, che è la parte del collo, che farà anche la parte delle spalle. Prendiamo la nostra macchinetta, ce la posizioniamo, e per tagliare questa sagoma, ecco qui, che è stata realizzata con questo spessore, ecco qui, vedete, che cosa serve? Oltre alle lastre di Plessiglass, serve anche il tappetino per rialzare, che è questo, che dite sempre, a che cosa serve? Serve per tagliare queste sagome qua. Quindi mettiamo, posizioniamo bene la macchina, quindi un Plessiglass, il nostro tappetino, il nostro pezzo di avanzo del tronco di cono, posizioniamo con la lamella, vedete qua che c'è una piccola lamella, deve essere benissimo, si vede perfettamente, la posizioniamo sulla parte che dobbiamo tagliare in questo modo, lo appoggiamo, mettiamo sopra la lastra di protezione per il nostro musgummi e andiamo a girare in questo modo. Logicamente questi spessori tagliano lo spessore del musgummi, lo spessore del cartoncino, della stoffa, logicamente non tagliano il feltro da 3 mm, tagliano il feltro da 1 mm. Ok? Perfetto. Adesso spostiamo la nostra macchina. Ecco qui, il pezzo che avanza, che è questo, ecco qui, tenetelo, cioè non buttatelo, perché potrebbe diventare, con dietro, esempio, un musgummi rosso, in questo modo qua, potrebbe diventare un biglietto d'auguri. Ok? Quindi non si spreca veramente nulla, si cerca sempre, sempre, sempre di recuperare tutto. Ecco, allora lo teniamo lì. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo il corpo, abbiamo la parte del colletto e delle spalle, ecco qui, ci servirà un po' di nastrino, anche di avanzo, in tinta, questo qua, alto 5 mm, lo metto qui, dobbiamo fare il faccino. Allora, per fare il faccino, che cosa serve? Serve una pallina di polistirolo da 5-6 cm di diametro, questo è da 6, del colore rosa per colorarla, come potete vedere, messa su uno stecchino per poterla tenere e poi per poterla infilzare nel nostro corpicino, questa l'ho già colorata, poi cosa serve? Una pallina, una perlina piccola di quelle da 2 mm per fare il nasino. Ci sono molte persone che insegnano a usare gli spilli, sì, però fate attenzione perché se le usano i bambini magari poi lo straggono e hanno in mano degli spilli, fate sempre un pochino attenzione perché non si sa mai questi oggetti a chi vanno in mano, quindi meglio incollare il nasino che è fatto da una perlina. Allora, per tenere ferma la pallina prendo una forbice, la posizione in questo modo per tenerla ferma. Così riuscirò a lavorare perfettamente anche per realizzare gli occhi. E poi cosa serve? Serve del tessuto di peluche categoricamente sintetico per fare i capelli. Ecco, allora guardiamo un attimo in primo piano il faccino che andremo a realizzare. Ecco qua. come potete vedere è la mia pallina di polistirolo che io ho colorato per renderlo molto molto semplice. Il nasino, un penarello sottile di quelli indelebili e poi servirebbe, ecco esempio, nelle altre le ho fatte, ecco qua, vedete, con magari un po' di fard rosa da mettere sulle guance. Ecco qua. Allora, andiamo a fare il nostro faccino. Quindi, prendiamo la colla a caldo, mettiamo un pochino di colla sulla pallina, attenzione, perché ne basta veramente una goccia. vedete che per poter tenere bene la pallina l'ho messa in un ago, in uno spillo, così la posso posizionare, a questo punto tolgo lo spillo e la pallina nel chiacchierare non si è incollata perché la colla si è asciugata. Quindi, rivediamo l'operazione. Mettiamo lo spillo all'interno del foro della pallina, che è la cosa più difficile, perché si deve prendere. Mettiamo una goccia di colla sulla pallina, ecco qua, proprio una goccia e andiamo a posizionare la pallina nel centro del nostro musetto. Ok, teniamo fermo qualche secondo perché il nostro nasino si possa incollare e non si è incollato. Oh, vuole fare proprio i capricci. Allora, ripetiamo. mi fa i dispetti perché non vedo il foro, eccolo qua. Guardate, mettiamo un goccino di colla a questo punto sul polistirolo e poi ci mettiamo la pallina. Però provate nell'altro modo perché in questo modo si incolla più velocemente ma c'è il problema che rimane un pochino di sporco sul nostro polistirolo. Quando si è bella attaccata togliete subito i fili di colla dal polistirolo perché sta veramente malissimo. Ok? Avete visto? A questo punto cosa facciamo? Prendiamo un penarello indelebile e andiamo a fare subito sopra allora la giro così così sono un pochino più a favore di camera andiamo a fare gli occhietti quindi facciamo vicino alla punta del naso due piccole virgole ecco qua in questo modo una e in questo modo l'altra per le più esperte possono anche ricoprire il faccino col musgumi rosa sicuramente il lavoro viene molto più carino però dobbiamo farlo in un modo semplice da poterlo far fare anche ai bimbi allora ricordatevi che l'espressione è veramente importante in questi piccoli lavoretti e se viene un'espressione bruttina viene bruttino tutto il lavoro quindi se non siete tanto brave fate semplicemente una cosina come questa allora chiedo un bel primo piano molto molto semplice quindi il nasino con i due occhietti in questa posizione potete sporcare con un pochino di fard rosato che logicamente ho lasciato in borsa ecco qua quindi mi raccomando fate un pochino le guanciottine rosa per ottenere questo effetto ecco qua vedete che questa qua è un po' più graziosa con il fard rosa si vede la testura è sotto del polistirolo ma ci sta non c'è nessun problema a questo punto facciamo anche un ovale sotto alla puntina della perlina che è il nostro naso che diventa la nostra la nostra bocca ci da e la coloriamo di nero sembra che siano degli angioletti canterini e lo andiamo completamente a coprire potete realizzare tutta questa lavorazione semplicissima semplicemente con il nostro penarello indelebile ecco qua perfetto adesso situazione capelli a situazione capelli devo ringraziare la carissima amica Donatella Bonafide che mi ha dato la dritta di utilizzare questo peluche perché è vero vengono delle acconciature un po' simpatiche un po' un po' pazzoidi però il risultato è veramente simpatico allora prendete un taglio di peluche sintetico a pelo un po' lungo quello che si usa anche per gli orsacchiotti e così via tagliate un pezzettino di tessuto in questo modo vedete e poi strappate e tirate vedete che vi viene una fettuccina tutta pelosa ecco dovete farne diverse allora adesso ne andiamo a tagliare un'altra quindi un pezzo così ecco guardate che meraviglia che mi è venuto un taglio unico ecco questo qua e sono i nostri capelli i nostri capelli da mettere sul nostro faccino quindi andiamo sempre con la colla caldo a mettere un pochino di colla in questo modo potete metterci anche della lana insomma potete un po' inventare quello che desiderate per me questa è la cosa più facile e più economica quindi andiamo a mettere la parte qua che circonda prima il faccino poi andiamo a mettere un bel po' di colla su tutta la nostra parte del retro del nostro della nostra pallina e andiamo a rotolare in malo modo il nostro filato ok in questo modo qua l'eccedenza brutta la possiamo tagliare ecco qua mettiamo un pochino di colla per fermare e questo pezzettino qua lo mettiamo in questo buco vedete che qua si è formato un po' di buco ok ma è inevitabile andiamo a metterci un pochino ancora di colla e ci andiamo a fare questa giunta anche perché in questo modo qua proprio le giunte non si vedono cioè il nostro e poi portiamo magari tutti i i ciuffi da da un lato ok diventa abbastanza simpatico allora qua c'è ancora qualcosina da tagliare ecco qui e andiamo a mettere ancora una goccina di colla per terminare il tutto ecco visto che è carina ecco in questo modo il nostro faccino è fatto in un modo molto molto semplice che riescono a farli anche i bimbi adesso procediamo a incollare il tutto allora prendiamo il nostro cono che avevamo tronco di cono che avevamo fatto prima all'inizio però è bello avere tutto il materiale per poi poterlo montare in un colpo solo allora prendiamo il nostro tronco di cono e lo pieghiamo in questo modo qua a metà per vedere per riuscire a incollarlo perfettamente e lo schiacciamo un pochino con le mani in questo modo ok metto un quindi ho fatto questa piegatura che poi riesco a riprendere immediatamente allora a questo punto metto da questo lato un un pochino di colla voi sapete che io mi scotto ecco la colla quindi voi state attente mettiamo proprio un filo di colla caldo in questa posizione qui andiamo a mettere l'altro pezzo di moshgumi che risale un pochino sopra sormonta di qualche millimetro a questo punto facciamo anche l'altro me lo sono girata a favore mio ecco qua mettiamo un filino di colla proprio una rigghina sottile e subito andiamo a mettere a chiudere il nostro tronco di cono dobbiamo stare qualche minuto con le nostre mani ecco vedete che mi sono scottata voi state attenti bimbi voi siete sicuramente più bravi di me su questa operazione qua questo è già il nostro corpo che sta già in piedi da solo allora a me piace farlo sottile è abbastanza fusolato e alto poi voi potete decidere di farlo come desiderate tolgo un attimo lo stecchino della testina per fare mettere a metà la parte rotonda guardate quale cappettine che le ho messe una sopra l'altra cioè non chiudetelo così ok ma chiudetelo bene una sopra l'altra schiacciate un pochino per fare la riga fate lo chiudete così con la forbice fate un piccolo tagliettino che sarà la parte proprio la parte del centro per poi metterci la testa ok a questo punto lo mettiamo giusto giusto sul nostro tronco di cono andiamo a mettere un pochino di colla sotto per far scendere e attaccare la parte centrale del bavero però prima di fare questo aspettate che mi sono dimenticata una cosa allora prima di mettere quello prendiamo un pezzettino di nastro ok e lo andiamo a mettere in questo modo qua una parte così e una più corta un lato più lungo un lato più corto sempre tagliato in in a 45 gradi è la parte sotto e lo incolliamo qua mettiamo un pochino di colla qua e un pochino di colla qua perché faccio così perché questo nastrino ok lo faccio attaccare bene ecco qua con questo qua un po' più lungo e questo qua un po' più corto mi da mi fa mi farà da braccia sono le braccia del nostro angioletto così non dobbiamo diventare matte a creare le braccia rimetto un po' di colla nella posizione dove avevo messo prima e a questo punto vado ad attaccare il nostro colletto che però ci fa anche da spalle vedete perché questa qua è la larghezza delle spalle del nostro angioletto andiamo a mettere un po' di colla anche nel retro logicamente se lo fate in cartoncino questo questo bavero potrebbe essere quei bei sottobicchieri anche un po' effetto pizzo ok che sicuramente per un'idea scuola un'idea maestra è un pochino più economico che utilizzare questo prodotto o se no lo potete fare in feltro ma lo potete fare anche con i nuovi materiali tipo il sughero o così via dovete un po' inventare voi quello che vi piace fare a questo punto vado a spezzare un po' il nostro bastoncino e lo vado a infilare all'interno del mio del mio buchetto ecco qui e metto la testina avete visto che simpatico che diventa a questo punto con un po' di nastrino in tinta o come desiderate voi eccolo qua che me ne era avanzato un pezzettino vado a farci il colletto qui vado a fare un nodino quindi faccio proprio il classico nodo e faccio il fiocchetto come da fare sui pacchi lo devo appoggiare perché lavorare proprio al contrario a fare un fiocco faccio fatica pure io ecco qui facciamo il nostro fiocchettino lo mettiamo a posto e solo alla fine mettiamo un goccio di colla alla base per fermare la nostra testa ecco qui mettiamo un pochino di colla e facciamo posizionare la testa a questo punto potremmo mettere delle campanelle potremmo mettere una tag con un pensiero possiamo veramente realizzare quello che vogliamo prendiamo un altro pezzettino di nastro e un pezzettino di cordino oro per fare un fiocco allora adesso vi faccio vedere a fare un fiocchettino semplice come si fa allora dopo aver tagliato tipo cosa saranno 30 cm no di meno 15 cm facciamo lo chiudiamo così facciamo così vedete abbiamo creato le asoline arricciamo un pochino nel centro con un pezzettino di cordino in questo caso sempre oro andiamo a chiuderlo in questo modo qui e andiamo a fare il nostro fiocchettino e stringiamo per bene chiudiamo e tiriamo perfettamente a questo punto a questo punto andiamo a tagliare le codine in questo modo del nostro estremità e tagliamo anche le le codine del del nastrino più corto mettiamo una goccia di colla mi raccomando la colla comprate sempre quella trasparente che non ingiallisce questa quella buona non le mosinate sulla colla e mettiamo un fiocchettino in testa allora il nostro angioletto come potete vedere è fatto con un semplice foglio a 4 ok quindi proprio quello tipo la misura è tipo un foglio a 4 siamo riuscite a realizzare il nostro angioletto con un pochino di nastrini d'avanzo un po' di peluche per fare questi capelli un po' un po' simpatici lo abbiamo visto che la possiamo realizzare con il musgummi come ho ho fatto ho fatto io però lo potete realizzare con del cartoncino con del feltro il cartamodello lo potete ricavare dal portale creareinsieme.it vi chiedo sempre di seguirmi sia sulla pagina web di creare insieme ma anche su facebook come www.creareinsieme.it e potete trovare veramente tantissime idee è veramente simpaticissimo questo qua è un'idea simpatica per il natale che sta arrivando ma se voi pensate di cambiare leggermente dei colori può diventare subito un'idea per fare una bomboniera per un battesimo potete veramente pensare di realizzare degli angioletti in un modo semplicissimo in edicola vi ricordo che è uscita anche l'ultima rivista che ho fatto dire fare creare nastri e pizzi sono tutti progetti miei veramente facili velocissimi con i con i cartamodelli esempio guardate questo per fare una borsina di carta utilizzando tutti gli avanzi cuoricini le roselline pinia che abbiamo già visto in vari modi e soprattutto questi barattoli che a me piacciono veramente tantissimo con l'utilizzo del sughero che sono questi nuovi materiali in edicola trovate anche natale a casa con il lavoro delle mie care amiche e sfere di natale che sono le riviste che ho coordinato in questo ultimo mese proprio dedicate al natale all'interno trovate anche la pubblicità della trasmissione mani di lara che vi ricordo che potete sempre seguire anche sull'827 di sky e che dire il natale si sta avvicinando e cominciamo a fare tutte queste belle piccole creazioni per abbellire la nostra casa io vi saluto e ci vediamo presto a una nuova puntata di Mani di Lara ciao